vai giù che sei pericoloso vuoi far la variante per me stai lì perché va giù di lì se la faccio io vengo dentro dove sei te parcheggio non ce la fa non ce la fa non ce la fa vai giù ti sei portato avanti no il peso il peso è avanti zio zio la carcassa l'hai portata in avanti e la moto ha fatto per schiazza qua non c'è le radici su no no non è neanche toccata la radica ma l'ha scaricata mezz'ora prima si ma lui si è buttata in avanti la moto è andata giù ma dritto vieni su eh mi metto qua che vedo la faccia di qua si ma stavolta non senta più giù perché almeno il peso ce la vedi qua però ti butti giù comunque ma chi è che ti puntala invece ma puntala giù perché c'è il ma il canale eh puntala la salita non girare marco stanno rovinando tutta la strada di questa io ti direi di provarla con la tua qua devi venire non girare subito vieni subito ma magari esatto magari se girava c'è la strada magari occhi a dire si qua vale qua ti vedo qua ti vedo eh perché va giù la ruota lì qua devi venire va che ti ho trovato il tuo giù della festa non c'è verso non c'è verso non c'è verso io provo adesso sicuro l'ha fatta non ero lì io bellissima se lo dite voi devi andare su alto devi andare qua però manco devi guardare devi andare su alto alto se no non faccio eh ma è uguale eh no vai ho capito ma il peso ti spacchi la schiena e basta a tirarla col peso figaro hai ma è percepito dai e ok hai ma fueground hai ma hai ma hai ma hai ma hai ma grazie a tutti e devi correre dietro, devi fare altro e non forte guarda che giudo che se non mettevi i piedi uscivi se non mettevi i piedi uscivi giusto ma sono uscito giusto? no, sei uscito con i piedi io sono uscito giusto io no al terzo giro però come tutte le volte le gare le perdevo per quello io